Benvenuto in Pasparto, in questo corso ti illustrerò come consultare, modificare e stampare i movimenti di prima nota. I documenti contabilizzati generano automaticamente scritture contabili che possono essere interrogate, modificate e stampate in qualsiasi momento. Per ricercare una registrazione contabile entra nella funzione Prima nota ed utilizza il pulsante Revisione Prima nota. Indica un intervallo di tempo nel quale ricercare la registrazione, oppure utilizza il pulsante Selezioni Registrazioni Prima nota per eseguire una ricerca più mirata e conferma con il pulsante OK. Per modificare la registrazione contabile posizionati sulla riga che vuoi modificare premi il pulsante Documenti Prima nota. Posizionati con il cursore sulla riga che vuoi modificare ed effettua la variazione. Vediamo ora come cancellare la registrazione di una fattura non ancora pagata. Per ricercare la registrazione utilizza il pulsante Revisione Prima nota. Posizionati sulla scrittura contabile desiderata e premi il pulsante Cancellazione Registrazione. Se la fattura è stata pagata e sono passati 40 giorni di esposizione cambia la data d'ingresso al programma e ricerca la tua registrazione. Se premi il pulsante Cancellazione Registrazione selezionando una fattura pagata il programma ti avverte che il documento è già in pagamento e non ti permette di procedere alla cancellazione. Dovrai cancellare prima il pagamento. A questo punto potrai cancellare anche la fattura. Stampa tutte le registrazioni contabili presenti in archivio con la funzione di stampa presente all'interno del menu Documenti. Avrai questi parametri di selezione. Conferma la stampa con OK. Oppure stampa le schede contabili per visualizzare tutti i movimenti contabili relativi ad un conto specifico. Se scegli la stampa standard avrai i seguenti parametri di selezione. Conferma la stampa con OK e visualizza la tua stampa.